Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Durante la puntata di ieri, venerdì 24 novembre 2023, di pomeriggio 5, Eleonora Giorgi ha raccontato di avere un tumore. L'attrice ha raccontato a Mirta Merlino come l'ha scoperto e cosa ha intenzione di fare ora. Tantissimi sui social hanno commentato la notizia di Eleonora Giorgi. Tra loro anche il secondo genito Paolo Ciavarro, che è riuscito a commuovere tutti con la sua infinita dolcezza. Dopo l'intervista della madre a pomeriggio 5, Paolo Ciavarro ha pubblicato una foto sul suo profilo ufficiale Instagram con un messaggio che ha commosso i fan. Nella foto c'è Eleonora Giorgi in mezzo, baciata sulle guance dai figli Paolo e Andrea Rizzoli, il primo genito. La forza dell'amore, la didascalia scelta da Paolo, che ora più che mai è accanto alla madre, che sta attraversando un momento molto delicato della sua vita. Oltre a quella di Paolo, tantissime le reazioni all'annuncio dell'attrice sul tumore. Siamo tutti con voi, ha scritto un follower sotto l'immagine condivisa da Ciavarro. L'amore può tutto. Sono sicuro che supererà anche questa, si legge.